Ok ragazzi, eccoci tornati su Clash of Clans, l'episodio dell'altro giorno dove abbiamo provato i nuovi minatori maxati, i nuovi domatori maxati, vi è piaciuto particolarmente e quindi eccoci qui per provare i nuovi super bocciatori maxati e gli yeti maxati. Ora, in realtà gli yeti devono ancora finire di essere potenziati, mancano 7 giorni e 15 ore nel laboratorio, però raga ho usato la pozione quindi ci abbiamo tutto potenziato. Di conseguenza ragazzi è come se ne andassimo ad utilizzare appunto maxati. Molti di voi mi hanno fatto notare che con gli ultimi aggiornamenti hanno finalmente messo la possibilità di inserire il codice creatore direttamente dallo shop, meno male raga ce l'hanno fatta, alleluia. Quindi ragazzi d'ora in poi vi basta andare nel negozio in alto a destra qui sulla C e inserite il mio codice creatore GGYT, non vi potete sbagliare ragazzi, mi raccomando è fondamentale per supportarmi. Detto questo raga abbiamo un po' di novità nel senso che stiamo andando avanti con i muri, stiamo andati avanti anche con le difese, adesso ci mancano soltanto 3 mortai, abbiamo finito gli archi X, giusto il tempo che si potenzino insomma. Poi ci mancano appunto questi 3 mortai, piano piano con il pass stiamo andando avanti e non sarebbe male raggiungere il potenziamento del costruttore il prima possibile così almeno ci costa tutto meno e ribadisco non sarebbe male. Ho visto un po' in giro e ho trovato questo esercito con i super bocciatori, è la prima volta che li vado ad utilizzare quindi ragazzi non vi so dire esattamente quanto siano forti, quanto siano scarsi, come utilizzarli, come non utilizzarli eccetera eccetera. Però noi oggi ci andiamo a divertire, tra l'altro siamo ad una partita potenzialmente dalle 5000 coppe quindi non sarebbe male neanche riuscire a fare una cosa del genere e io direi ragazzi di attaccare qualcuno che ci dia molte coppe. Oh questo in realtà sta anche in arena leggendaria, in arena leggendaria si sto su Clash Royale, in Lega Leggenda. In realtà è anche proprio quel tipo di villaggio che vorrei provare ad attaccare e tra poco vi spiego anche il perché. Allora detto questo io direi di andare, direi di andare ragazzi, allora direi di andare. Terremoto qui e si va, non ho preso i muri del municipio, già il primo fail, let's go, va benissimo. Quindi usiamo lo spaccamuro qui. Poi ragazzi io ho visto che c'è gente che utilizza la caserma da una parte con il re barbaro dall'altra per cercare di ripulire le zone esterne del villaggio e poi cercare di andare a far andare appunto centralmente gli yeti con i bocciatori. Può funzionare? Non lo so. Lo andiamo appunto a provare insieme. Mettiamo subito una bella furia qui. Ci abbiamo subito contro uno scaglia pietre e la torre inferno quindi direi di utilizzare già il potere del gran sorvegliante. Io qui direi di andare a congelare per non perdere subito lì il cucciolotto. Non ha nulla mi sa nel castello del clan e i super bocciatori ragazzi stanno iniziando a fare già un pochino di cose. Beh fanno parecchio danno. Occupano 30 di spazio ragazzi. Io tra l'altro per andare a vedere i super bocciatori mi stavo distraendo dall'attacco e non stavo congelando nulla. Va bene. Allora qui direi di andare a usare appunto l'asalto. Così almeno dopo quando vanno sopra tornano giù. Però mi sa che non riusciamo a fare neanche le due ragazzi. Mi sa che non riusciamo a fare neanche le due. Bruttissimo attacco regà. Brutto 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 brutto. Tra l'altro regà sembrano le tartarughe ninja. Sembrano troppo le tartarughe ninja ragazzi. Ma proprio troppo. Ma sono uguali. Cioè sono delle tartarughe ninja ragazzi. Cioè va bene. Ok. Allora. Vediamo. Vediamo. Manca un minuto e venti. Ci abbiamo l'unicorno vivo con la regina. Però ragà la vedo molto male perché adesso vengono praticamente bruciati da torre inferno. Municipio. C'è ancora la sua regina viva. Insomma abbiamo fatto un sacco di percentuale. Ma solo una stella. Che però ci permette di fare 10 coppe. Visto che lui ci pagava 30 coppe. Quindi l'arena. Di nuovo l'arena. La lega leggenda ce la andiamo a prendere. Allora. Andiamo con il potere. Giusto per far fuori la sua regina. E niente. È successo proprio quello di cui avevo paura. Che la roba mi è girata tutta. Provo un attimino a modificarlo questo. Questo esercito ragazzi. Provo a mettere due spaccamuro. Così almeno riusciamo a pulire meglio al lato. E diminuiamo un attimino il numero degli ieti forse. Non lo so regà. Me lo devo studiare un attimo. Devo provare un attimino a studiarmi meglio qui la situazione. Qui la regina regà. Vabbè dai. Aspettiamola. Magari fa fuori un'altra struttura. Ma che ne so. La buttiamo un po' in caciara. Vediamo che cosa riesce a fare qui. Sola soletta. Tra l'altro regà. Se li dovessi riprendere. L'arena leggenda. Mi sa che devo aspettare un po' di tempo. Per fare l'attacco. Che mi trovi gli avversari. Mannaggia la miseria. Eccola lì. Vabbè regà la velena alla fine non l'ho neanche utilizzata. C'avevo uno stregone ragazzi. Ma lo buttiamo un po' così. E va bene. Ecco qua le dieci coppe. Ecco qui l'arena ancora. La lega leggenda. Niente regà sto giocando troppo a Clash Royale ultimamente. Allora detto questo. Facciamo due spaccamuro. Da una parte continuiamo a usare il castello. Con tutta sta robetta qui per pulire. E dovrebbe andar bene. Per aiutare a pulire. Secondo me. Potremmo mettere qualche stregone. Già insieme per esempio per aiutare il re. Sì. Tanto uno comunque già c'era. Ne metto due che li utilizzo subito. Per il resto possiamo piazzare. Cinque ieti. E sei super bocciatori. Anche se però regà vi posso dire la verità. Con questo primo attacco non è che mi abbiano fatto impazzire. Cioè vi dico la verità. Non lo so. Non ho visto tutta sta potenza inaudita. Che mi stanno a significare i 30 spazi utilizzati. Non lo so. Poi magari mi consiglierete meglio voi sotto nei commenti. Qualche strategia o un qualche esercito. Ma adesso che ho capito un attimino come funzionano. Vediamo se riusciamo a fare ste tre stelle. Ok regà. Dunque. Finalmente siamo tornati in Lega Leggenda. L'attacco di prima sembrava failata apposta per 10.000 copp arrivare a 5.000. Purtroppo avrei preferito scegliere il villaggio da attaccare. Perché prima me ne sono scelto appositamente uno ostico. Questo qui in realtà non lo saprei valutare per il nostro esercito. Non lo saprei valutare per il nostro esercito ragazzi. Fatto sta che le terremoto le gioco qui. E finalmente le abbiamo giocate bene. E ok. Poi io tenterei. Tenterei. Uno spaccamuro qui. Uno spaccamuro di qua. E let's go. E facciamo la stessa cosa che dovevamo fare anche prima. Quindi questo. E questo sostanzialmente. A ripulire di qua e di là. Quindi qua anche uno stregone. Ne ho messi due per sbaglio ma va bene. Un altro stregone di là anche se comunque già ci sono. Vediamo se riescono comunque a ripulire per bene qui. Attenzione ragazzi. Qua c'è già la torre inferno singola che ci sta facendo fuori praticamente tutto. Ora questi ieti e questi bocciatori dovrebbero finire al centro potenzialmente. Se no io non ci ho capito niente di questa strategia regà. No. No perché hanno già spaccato la difesa dietro. I bocciatori hanno spaccato dietro regà. Mi sa che devo far fuori l'asalto. Con due spaccamuro potevo far fuori l'asalto ragazzi. Mi sa di sì. Mo vediamo però eh. Mo vediamo un attimo che succede. Andiamo con il potere del gran sorvegliante ragazzi. Lì abbiamo spaccato. Lì abbiamo spaccato. Non ci sono problemi. Non dobbiamo usare salto. Lì lo yeti maxato. Regà se la sta giocando con la sua lottatrice. Niente. Ci ha fatto fuori qua tutta la situazione. Mamma mia regà quella regina al 79. Comunque ha picchiato forte eh. Però vabbè regà almeno abbiamo fatto un buon attacco. Cioè almeno ci siamo portati a casa le due stelle. Una buona percentuale. E addirittura una veleno non utilizzata. Devo capire meglio sicuramente come usare una strategia del genere. Io ho visto gente fare grandi attacchi con questo esercito. Ovviamente consigliatemi voi anche degli eserciti con i nuovi yeti al 4. Con i super bocciatori che comunque vorrei provare a imparare a usare meglio. Sinceramente mi interesserebbe. Qui regà che famosa. Teniamo sta percentuale. Ma no dai. 80% bello pulito. Me lo tengo ragazzi. Me lo tengo. Quindi niente regà. Prossimo obiettivo. Cercare di capire un attimino come utilizzare al meglio sia i super bocciatori che gli yeti. Nel prossimo video volevo andare a provare i golem. Addirittura che erano l'altra grossa novità di questo big aggiornamento. Comunque come vedete li abbiamo anche già maxati. Quindi magari nel prossimo video andremo proprio a provare direttamente i golem. Anche quelli si potrebbero provare in combo con i super bocciatori. Però vi dico la verità non mi hanno fatto impazzire. Quindi aspetto un attimino che esca questo video. Per vedere un attimino anche la vostra cosa ne pensate. E ne trarremo un attimino le conclusioni. Vi ricordo il codice creatore che adesso è nello shop. Facilissimo in alto a destra. Mi raccomando ragazzi. Fondamentale per supportarmi. GGYT. Lasciando un bel mi piace per supportare Clash of Clans ragazzi. Mi raccomando ragazzi. Fondamentale anche quello. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi.